Amicati amici di Montediprocita.com siamo nella sala consigliare del municipio di Montediprocita e siamo con il consigliere pugliese Carmela Pugliese della minoranza allora stasera si è presentato il bilancio, un giudizio su un atto così importante per l'amministrazione targata pugliese Io vorrei esordire dicendo che non c'è esordo peggiore di chi non vuole sentire in realtà quando i delegati hanno illustrato le cose fatte per il bilancio si è parlato di ascolto dei cittadini e di qualità verso i cittadini io vorrei chiedere invece a tutti i cittadini come oggi stanno percependo questa amministrazione un bilancio molto risicato, un bilancio con pochi spazi di manovra e con tutta una serie di problematiche che tra l'altro anche l'opposizione ha acquisito in ritardo, anzi direi in ritardissimo quindi adesso valutiamo e poi suggeriremo gli emendamenti fatto salvo poi i problemi che sono sorti questa sera nell'ambito del dibattito grazie grazie grazie